Quereliamo Musumeci, i dipendenti regionali non ci stanno e vanno all'attacco dopo le parole forti pronunciate dal governatore che qualche giorno fa aveva definito inutile alle funzioni programmatiche della regione il 70% dei dipendenti regionali, elementi di una macchina burocratica pesante portata avanti, aveva detto Musumeci, da gente non digitalizzata, non abituata a lavorare in un contesto assolutamente diverso, competitivo, come richiede oggi la pubblica amministrazione. Adesso i lavoratori rispondono e come annunciato dal sindacato SIAD, CSA CISAL, convocano per giovedì l'assemblea per la raccolta delle adesioni alla querela. Crediamo, dicono dalle sigle sindacali, che il presidente Musumeci ignori come funzionano realmente gli uffici della regione che lui stesso guida, altrimenti non si spiegano questi attacchi ripetuti attraverso la stampa, volti forse più a impressionare un pubblico che alla risoluzione dei problemi. L'assemblea si terrà al centro giovanile Donorione a partire dalle 9 per tutta la mattina e sarà aperta di scritti e non. Ogni dipendente munito di mascherina e documento di identità potrà porre la sua firma alla querela che sarà autenticata dall'avvocato. Garantiremo il rispetto delle distanze, dicono gli organizzatori, e di tutte le misure di contenimento previste dalle norme, esattamente l'opposto di quello che succede in molti uffici regionali in cui si mette a rischio la salute di lavoratori, che devono subire anche gli insulti del governo.